Questo programma vi è offerto da Eurocase Friuli Buonasera, bentrovati a Metal Weekend Andiamo subito a vedere il tempo in corso Lo facciamo con la prima cartina che ci mostra la situazione di Sereno sul nord Italia In realtà anche sul versante tirrenico, vedete la Toscana Nubi invece ancora sul centro sud Oggi senza precipitazione di rilievo Però ancora nuvolosità per effetti correnti orientali umide Da noi temperature tra i meno 5 e gli 8 gradi in pianura Un pochino più mite la costa nelle minime e non nelle massime Sono state un paio di gradi più basse Lo zero termico anche osservate è abbastanza contenuto Ancora come quota siamo intorno ai 1000 metri Lo vedremo soprattutto dalla seconda carta Che possiamo pure mostrarvi Il radio sondaggio Eccolo qua, migliaio di metri la quota del zero termico E profilo verticale atmosferico tipico di Bel Tempo Ovvero sia l'aria è sufficientemente secca a tutte le quote E questo naturalmente favorisce il Bel Tempo Bel Tempo tra l'altro oggi l'atmosfera era anche piuttosto limpida Vediamo velocemente l'ultima carta Solo per renderci conto della situazione attuale Che vede ancora un'alta pressione ben sviluppata Tra le isole britanniche e la Turchia Posta così un po' in diagonale con il suo asse Che interessa in parte anche noi Vediamo anche il flusso orientale che si è attenuato La depressione si è spostata più a Occidente Anche se quella depressione farà un po' di oscillazione Poi ne parliamo nel corso delle previsioni del tempo Ora andiamo a vedere Di solito c'è il video introduttivo Oggi ho un po' cambiato in corsa Il significato di questo video Che non presenta tanto la puntata Ne parliamo dopo Ma visto anche gli ospiti che abbiamo Poi vi dico perché Credo sia proprio adatto E anche perché fa una certa gioia vedere queste immagini Cominciamo a dare un'occhiata a questo video Grazie Corridoio Bravo 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 Grazie Barella Di qua la Barella Grazie 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 sono vivi e stanno anche bene, a parte un po' di ipotermia, vedete i soccorritori, tanti soccorritori al lavoro, la macchina si è messa in moto, anzi anche dal Friuli è stato richiesto un contributo del soccorso alpino regionale, per cui insomma ci sarà modo perché il lavoro è enorme. Vi presento subito gli ospiti di questa sera, abbiamo con noi Marco Favalli, faunista, buonasera Marco, con lui parleremo di animali naturalmente, soprattutto di certi animali, e poi abbiamo Luciano Lizzero, previsore dell'ufficio Nevalanghe della regione Friuli Venezia Giulia. Buonasera Luciano, con te acceneremo proprio a questo, vi dico anche che non è in studio ma graditissimo ospite Claudio Salvalaggio, guida naturalistica, ci parlerà dell'andare in montagna nella stagione invernale, sulla neve, in montagna ma non solo, perché d'inverno si possono fare tante cose in Friuli Venezia Giulia. Luciano Lizzero, due parole su quello che abbiamo visto, oltre alla soddisfazione, la percezione chiara di un evento enorme, tu fai il previsore Valanghe, immagino vi siete resi conto subito di che razza di fenomeno sia successo. Sicuramente le immagini ci danno speranza che siano recuperabili un sacco di altre persone, ovviamente, sicuramente questo, quello è stato un evento molto significativo, con la movimentazione di masse nevose enormi, un albergo di quattro piani che viene demolito richiede ovviamente forze d'impatto e velocità e masse ragguardevoli. Speriamo appunto che questo evento venga studiato. Questo lo cercheremo un po' poi di capire meglio con i prossimi giorni, intanto la soddisfazione per queste persone, mentre quelle immagini che stanno scorrendo sono relative alla nostra regione, problema lì, da noi non si pone certo della massa nevosa quest'anno, qui è addirittura prima della nevicata. Ecco, una situazione molto strana, non che non si sia mai verificata, però diciamoci la verità, stiamo andando verso anche gennaio con un solo episodio. Esatto, questo era il tardo autunno, quello era il ghiacciaio del Montasio, che era caratterizzato proprio da quelle immagini, da un'enorme massa di retriti in grado di ricoprirlo quasi completamente. Di contro, sicuramente questo è un anno che ha visto pochissima neve fino alla scorsa settimana, non è stato l'unico, anzi, nell'88-89 stessa condizione, anzi in quel caso la neve è arrivata a marzo, nel 2001-2002 stessa condizione, lo stesso scorso anno con bassa copertura nevosa e con le nevicate a fine gennaio. Quello che però si tratta di, e si vede anche dal grafico, è che negli altri anni, vedete il minimo, quella linea blu-azzurra, il minimo di copertura nevosa era comunque presente, pochissimo, quest'anno siamo comunque sotto ogni minimo. Quello che ha fatto impressione quest'anno è proprio mancava in quota anche, a dire la verità anche il dicembre scorso è mancato in modo anche, anzi facciamo anche piuttosto caldo. Esattamente. E quindi, non so, sono già due anni di seguito che si manifesta questa tendenza, non che sia un segnale... Trarre conclusioni di una tendenza, quello che si può vedere dai dati, dai grafici, è che vi è un andamento oscillatorio, decisamente oscillatorio, nelle annate nevose o meno, 2008-2009, addirittura già all'inizio stagione, vi era una grande copertura nevosa, nel 2013-14 anche. Quindi è difficile trarre una conclusione, se non forse sottolineare quello che può essere un processo di cambiamento climatico con annate che hanno estremi molto elevati. Ecco, mi chiedevo anche, Luciano, si diceva una volta, no? Bah, a novembre ci sono nevicate in quota che preparano, in qualche modo, no? Poi quelle che arrivano a quote più basse dopo. Stanno un po' mancando, proprio queste nevicate da un po' di tempo. Novembre dell'anno scorso, praticamente stato fenomenale dal punto di vista dell'anomali e secco, come il dicembre che abbiamo avuto questa. Però, anche quest'anno c'è stato di più, però insomma, non è che si faccia quel carico in quota, diciamo dai 1800-1500 metri in su. Esatto, questo sicuramente è un dato tendenziale che si può desumere dai dati, nel senso che le nevicate autunnali vengono a mancare, su questo non vi è dubbio. Tendono a portarsi verso quello che un tempo era la stagione secca, l'inverno, dopodiché fermarsi per poi riprendere verso la primavera. Non è un caso che i grandi carichi nevosi arrivino a marzo e ad aprile. Ecco, c'è da dire anche un'altra cosa, quando parliamo anche dell'andamento climatico, si nota ultimamente, ultimamente intendo decenni, ma parlando anche degli ultimi due anni, o tre o quattro, si nota come una certa configurazione circolatoria tra l'Europa e l'Atlantico tende a mantenersi per molto tempo. Per esempio, adesso abbiamo visto prima quell'alta pressione, con la bassa pressione a sud, il flusso di correnti orientali, anche questo ha una durata infinita praticamente. Se andiamo a vedere, poi lo vedremo con le previsioni, tende a mantenersi. prima le correnti settentrionali e ci siamo sempre trovati, diciamo noi, a riparo di fatto. Ma come se questi schemi facessero fatica a mutare? C'è forse meno variabilità che in un passato un po' più lontano, che magari ci ricordiamo? Allora, debbo però in questo senso ricordare che negli anni passati, molti anni fa appunto, vi erano già condizioni di questo genere nel centro dell'inverno, con un'alta pressione che portava temperature molto fredde, per esempio quelle di adesso, e con stabilità del tempo per lunghi periodi. Forse non come in questo caso, ma vi era già quello che invece non succede negli ultimi periodi, negli ultimi anni, è proprio questo evento, questo da questo punto di quest'anno, questa stagione, da questo punto di vista, rovescia la tendenza degli anni recenti. Quindi, mentre vi erano fasi e impulsi con perturbazioni seguite da periodi freddi, anticipate da periodi caldi, poi seguiti da periodi freddi, ultimamente questo elemento comincia a essere meno diffuso. Certo, anche perché è vero che gennaio-febbraio sono mesi storicamente secchi, relativamente secchi, però, certo è che quest'anno rischiamo in 60 giorni di aver avuto una manciata di millimetri di pioggia in un unico episodio. Ne parleremo ancora, ora andiamo in pubblicità e torniamo con le previsioni del tempo. E noi ritorniamo in studio per andare a vedere che tempo farà nel weekend, pochi dubbi a dir la verità, e anche quello che accadrà dopo. Lì qualche dubbi in più, ma sempre pochi, purtroppo, per chi attende altri fenomeni. Ecco, questa è la cartina che abbiamo già osservato prima, è l'alta pressione, la fa da padrona sull'Europa, fino ormai a interessare direttamente anche la Grecia, a parte la Turchia, che giorni fa erano interessati a maltempo. La depressione la ritroviamo sul Mediterraneo occidentale, centro-occidentale, la sua sfera di influenza è calata un po' sull'Italia, da noi assolutamente del tutto. Quella depressione potrebbe fare un po' di moto elastico, si allontana in moto retrogrado all'inizio, poi torna a riavvicinarsi, ma noi ne resteremo probabilmente sempre fuori. Andiamo allora a dare un'occhiata alle previsioni per domani. Una giornata all'insegna del cielo sereno su tutta la regione, quindi una splendida giornata di sole, con valori minimi, intorno ai meno 5-6. L'aria che ha fluita, naturalmente, si fa sentire nei bassi strati, ora che i venti tendono ad essere un tantino meno forti, soprattutto sulla pianura, ecco che scendiamo ampiamente sotto lo zero. Però, guardate, l'escursione termica è notevole, 9 gradi, i valori massimi attesi. I venti sono sempre da nord-est, moderati di Bora, solo sul Carso, su Trieste, sulla provincia di Trieste, per il resto abbastanza deboli. Lo zero termico se ne sta più o meno alle quote attuali. Andiamo a vedere la domenica, non cambia nulla e in pratica il cielo rimane sereno, al netto forse di qualche o poco nuvoloso sulle zone sud-occidentali, occidentali della regione, quelle confinanti con il Veneto, per così qualche modesto addensamento. Per il resto, bello, meno 4 i valori minimi attesi, 10 quelli massimi, saliamo, tocchiamo i 10 e anche lo zero termico guadagna ancora qualcosina, 1.250 metri. I venti sono sempre nord-orientali, rinforzano lievemente di nuovo sulla costa fino a moderati, con Bora anche moderata sul Golfo di Trieste. Andiamo a vedere la carta successiva e qui possiamo essere anche veloci, perché insomma allarghiamo pure lo sguardo sul Triveneto, ma non cambia la situazione, sempre sole ovunque, neanche una nube, sabato, qualcosina in più, se andiamo a quella di domenica, sul Veneto, in particolare sulla pianura Veneta, procedendo un po' verso sud, sud-ovest, ecco lì, un po' di nubi. Per il resto, sereno ovunque, su tutta la macro regione e anche sulle zone estere confinanti, vicine. Eppure la prossima carta ci dice, adesso la commentiamo brevemente, ma poi approfitteremo della presenza di Luciano Lizzero per qualche parola in più, questo è più o meno l'innevamento nelle località della nostra regione. Cosa balza all'occhio immediatamente? Che sulle carniche c'è molta meno neve rispetto alle giuglie, che comunque non brillano, non brillano particolarmente. non brillano particolarmente. Abbiamo visto il Canin, che come sempre la fa da padrone, io dubito un po' di quel dato di Pramollo, che è l'estremo segnalato degli austriaci, però mi sembra un tantino forte, poi vedremo. Vediamo pure il rischio, Balanghe, che naturalmente è debole su gran parte delle nostre zone alpine per alpine, tranne che sul lato delle giuglie, dove abbiamo un moderato, insomma qualche distacco possibile, c'è stato vento, ci sono accumuli, però chiaramente c'è da dire una cosa, non c'è così tanta neve, come avete scritto nel bollettino di oggi, di seppellire il malcapitato. Ecco, però qui sono breve perché poi ne parliamo con Luciano Lizzero un po' più approfonditamente. Vediamo invece la prossima carta, e questa anche interessante, perché cosa ci mostra? Ci mostra per mercoledì prossimo la tendenza nuovamente a rinforzo della pressione sul Mediterraneo occidentale e sempre forte, troviamo l'alta pressione, sull'Europa centro-orientale. Questa per noi è una situazione naturalmente di bel tempo, ma avete notato quel rosa anche sul centro-sud Italia, vuol dire che c'è una tendenza all'aumento della pressione anche lì. Vedremo se questo si concretizzerà con un graduale miglioramento della situazione che li ha penalizzati, insomma certamente un inverno, come ho detto altre volte, da ricordare al sud. Vediamo invece la depressione atlantica un po' più, può approfondirsi maggiormente e questi sono gli spaghetti, gli scenari di lungo termine che ci dicono che fino alla linea bianca non ce n'è per nessuno, non arriveranno perturbazioni, non arriveranno contributi umidi, non arriveranno depressioni di alcun tipo né da est né da ovest e noi ci troveremo con il tempo ancora stabile, buono, qualche volta un po' più di nuvi, qualche volta più sereno, ma tra l'altro con il rientro nella media della temperatura in quota. c'è ancora la possibilità, vedete che alcuni scenari mostrano un raffreddamento di nuovo quella discesa della curva, però lì sono molto divaricati per cui è difficile dire se sarà effettivamente così. Diciamo che certamente per altre precipitazioni dobbiamo rimandare a febbraio, ci ritroviamo a febbraio, a meno di ribaltoni strani e poi vedremo cosa accadrà quella volta. Ultimi due quadri per vedere appunto il bel tempo dei primi tre giorni della settimana, qualche vellatura al massimo, per il resto sole, notate abbastanza fredde congelate in pianura e massime intorno ai 9-11 gradi. Ultimo tabellone, quello con meno attendibilità, ma in questo caso tutto sommato credo che ne abbia una discreta, ecco vediamo sempre bel tempo, al massimo delle nubi in aumento nel weekend, con queste temperature che forse aumentano leggermente, ma insomma neanche tanto, aumentano un po', un pochino. Con il meteo è tutto e con gli aggiornamenti meteo ci troviamo naturalmente fin da lunedì a ore sette, con ore sette e noi torniamo a parlare di inverno, di montagna, questa volta con Marco Favalli e cominciamo a parlare di animali. L'altra puntata abbiamo accennato all'adattamento di animali in generale e oggi focalizziamo un po' su due specie interessanti che vivono in alta quota, in condizioni molto difficili, che sono il camoscio e lo stambecco. Allora a Marco chiederei un po' di descriverci, partiamo proprio dal camoscio, anche le tue immagini iniziano col camoscio, girate da te, molto belle, e poi parliamo dello stambecco perché lì c'è anche un problema un po' più importante di cui tener conto. Beh, queste due specie sono specie adattate a questi ambienti. Il camoscio è una specie che vive a quote non estremamente elevate durante il periodo invernale e ha le zampe, è un animale rispetto allo stambecco più leggero, ha le zampe più lunghe e agli zoccoli che presentano una membrana tra le due unghie che gli permette di ciaspolare, di galleggiare sulla neve. Sono molto abili a muoversi anche loro su. Sono più favoriti a muoversi anche in ambienti particolarmente innevati come questo che vedete e ambienti anche forestali. Invece, per quanto, poi vediamo un'altra caratteristica, il mantello scuro, sicuramente non è mimetico nel periodo invernale, ma è un adattamento anche questo, per attirare quei pochi raggi di sole, e quel calore che possono attirare. Ecco, una curiosità, però, cosa mangiano in questo periodo? Adesso non c'è tanta neve, ma quando... Nel periodo invernale intanto cercano un po' di erba secca, però piuttosto rami di pino, aghi, licheni, muschi, a volte le cortecce, no? A volte le cortecce, però questo più è il caso dei cervi. E inannate come il 2008-2009 con tant'anni, cosa devono scavare anche loro? Ah, devono scavare, sì. E poi diventa veramente questione di sopravvivenza, di regolazione delle popolazioni, il periodo invernale. Ecco, animale naturalmente che viene in parte anche cacciato, ma che nelle nostre zone, com'è? Il suo stato di salute... Il suo stato di salute, diciamo, la distribuzione è ottimale, la distribuzione, le densità sono variabili, dipende dalle zone. Nei parchi e nelle zone protette le densità sono buone, anche a seguito di vari progetti realizzati soprattutto nel Parco delle Prealpi Giulie, come un progetto di restocking. Ecco, qua invece vediamo l'altro protagonista dell'alta montagna, Stambeck. Qui si vede veramente il re della montagna e noi dobbiamo pensare che quando li incontriamo d'estate sdraiati sulle praterie, ci camminiamo vicino e qualche volta anche mangiamo un panino insieme a loro, come spesso accade sul montaggio, si fanno avvicinare dove non c'è disturbo, perché se vengono cacciati è un animale che è protetto a livello nazionale e quindi se vengono cacciati anche loro aumentano le distanze di fuga. Ma questo è un animale totalmente diverso, le zampe è un animale intanto più pesante, le zampe sono più corte e non hanno questa membrana interdigitale che gli permette di aggrapparsi alle rocce. Ecco, questa è un'immagine di uno Stambeck che abbiamo trovato insieme alla collaborazione del Corpo Forestale Regionale nel Parco delle Prealpi Giulie, un animale trovato con la rogna. Sì, in realtà qui lo vediamo già ben spolpato, pensate che questo animale qui l'avevamo individuato ancora tutto intero due giorni prima e nell'arco di due giorni durante il periodo invernale probabilmente un branco di sciacalli o chissà cosa è passato, può essere anche i grifoni. E qui poi applichiamo una telecamera, una fototrappola per riuscire a capire poi cosa avviene. Perché può essere frequentata di nuovo? Può essere frequentata di nuovo, effettivamente non c'era molto rimasto, però in alcuni casi abbiamo filmato l'aquila, le volpi, anche certe volte animali più... Dunque, lo Stambeck è stato anche in parte reintrodotto, no? Sì, lo Stambeck è stato reintrodotto perché ha subito quasi l'estinzione a livello alpino, è stato reintrodotto su tutto l'arco alpino, tra cui anche in Friuli, sul Montasio e nei territori che oggi fanno parte dei parchi. Attualmente però è successo questo problema, è arrivata la rogna sarcoptica che è un acaro che si insinua sotto la pelle e crea delle gallerie, si riproduce velocemente e porta alla distruzione quasi totale della popolazione. Quindi l'85% della popolazione rischia di scomparire in meno di 3-4 anni. Ecco, dopo con Marco Favalli parleremo anche di altri animali della montagna che in inverno sono particolarmente interessanti, anche come si osservano, lui è un osservatore provetto in questo senso, ma noi ci fermiamo per la pubblicità e torniamo tra poco. Eccoci di nuovo qua, con Claudio Salvalaggio, guida naturalistica, ci siamo visti nei giorni scorsi per parlare un po' dell'andare in montagna d'inverno e che vuol dire sì, ciaspole, vuol dire anche però forse no, forse si può andare anche con gli scarponi, c'è poca neve, non serve mettere le ciaspole e sentiamo un po' qualche consiglio perché naturalmente lui ne parla in generale, non solo riferito a quest'inverno, però è arrivata un po' di neve, l'abbiamo visto non tanta, andiamo a sentire che cosa ci dice. Finalmente è arrivata la neve, l'inverno si può dire quello da cartolina e allora si va in giro, si va in giro a scoprire le bellezze del Friuli, si va dalla montagna, si va fino alla pianura e al mare perché le bellezze ovviamente non si fermano solo dove c'è la neve. In ogni caso però bisogna arrivarci preparati, arrivarci preparati vuol dire avere un equipaggiamento adatto, per esempio il vestiario, cosa fondamentale per non patire freddo. Diciamo che ci si veste a cipolla, è il famoso modo di dire. Vestirsi a cipolla vuol dire avere almeno 3-4 strati diversi, un intimo che fa traspirare, per cui tiene asciutto a contatto con la pelle, una parte calda che può essere il pile o il maglione insomma come si può dire e una parte esterna contro il vento, importantissimo in questi giorni e poi eventualmente contro la pioggia o la neve, per cui vanno benissimo i cosiddetti soft shell per il vento e gli hard shell, cioè le giacche vere e proprie contro le precipitazioni bagnate. Escursioni in montagna ovviamente possono essere con gli sci sugli impianti oppure fuori degli impianti come sci alpinismo, ma bisogna essere degli esperti, oppure le ciaspolate che è una disciplina aperta a tutti, che è molto semplice ma da fare con le dovute attenzioni. Le ciaspolate ovviamente si usano le ciaspole, i bastoncini e permettono di vedere tutta quella natura che altrimenti senza non potremo visitare, perché già con le prime nevicate di questi giorni alcune aree della nostra regione non sono più raggiungibili se non con questi mezzi. Quando si ciaspola bisogna fare attenzione alle pendenze non solo del sentiero che si sta percorrendo ma anche della montagna e del versante ovviamente, per cui non andiamo a cercare pericoli dove i versanti sono molto spioventi perché c'è sempre un rischio valanghe, ma so che di questo ne parlerete anche in studio. Ricordo a tutti anche nella scelta del modello di ciaspole di fare attenzione che abbia il giusto rostro e le punte sotto come mini ramponcino, ma soprattutto l'alzatacco perché le nostre montagne, i nostri sentieri sono sempre in salita e in discesa, non abbiamo le grandi pianure austriache piene di neve e per cui è importante l'alzatacco per non stancarsi mentre si va verso l'alto. Se il sentiero è ben battuto si può andare anche a piedi senza le ciaspole, in quel caso lì con una bella parola i nostri vicini austriaci li chiamano Winter van der Weg, cioè i sentieri invernali fondamentalmente, in quel caso lì potrebbe essere utile avere le leghette, se per caso vogliamo uscire un po' dal sentiero, allora in quel caso lì è meglio coprire la parte fra i pantaloni e gli scarponi in maniera che non ci si infili la neve dentro. Alcune proposte semplici e adatte a tutti sono sicuramente i piani del Montasio, i laghi di Fusine e anche nella zona delle dormiti friulane le montagne attorno a forni di sopra senza andare a cercare la vetta a tutti i costi. L'escursione ai piani del Montasio è un'escursione semplice, si parte da Sella Nevea, si possono lasciare le macchine al rifugio di Visione Iulia oppure ai campetti dove una volta si cominciava a mettere gli sci. In quel caso lì si sale per la strada forestale fino a Casera Cregniedul, sono quasi 400 metri di dislivello. Il bello dell'escursione è che il dislivello è tutto nella prima parte per cui una volta che questo viene affrontato il resto dell'escursione è in falso piano o in leggera discesa. Arrivati a Casera Cregniedul si con piccola pausa, si mangia, cosa importantissima per non arrivare eccessivamente affamati all'ora di pranzo. In montagna in generale è bene mangiare qualcosina una volta all'ora più o meno, una micro merenda, un pezzo di cioccolata ma ancora meglio sono la frutta secca e qualche biscotto. Dopodiché si prosegue per il bosco fino alla grande apertura del panorama sui piani del Montasio da dove si riesce a vedere persino la Mariana che è la grande piramide al centro della pedemontana friulana. La nostra regione però è adatta all'escursionismo invernale anche senza neve e per cui ci sono bellissime proposte da fare sulla costa per quanto riguarda il birdwatching ma ne parleremo anche dopo oppure nella zona pedemontana si può andare in bicicletta, in mountain bike per chi è un po' più atletico ma anche semplicemente prendere la bici e partire. Anche in quel caso lì la cipolla è sempre fondamentale per affrontare il tempo. Ecco allora si va in montagna, ciaspole non ciaspole ma qui abbiamo Luciano Lizzero e con lui parliamo un pochino del bollettino Neve Valanghe che fino a poco tempo fa, diciamo fino all'altra settimana dava pochissima soddisfazione anche ai previsori stessi e bisognava cercare di dire no qualcosa perché insomma siamo a dicembre bisogna anche farlo però adesso insomma qualcosina si può cominciare a dire. Innanzitutto mi interessa però spiegare per chi va fuori anche per non incappare in rischi, in problemi importanti come va letto un bollettino di questo tipo anche come lo preparate e come lo elaborate. Il come andrebbe letto è un conto, il come si legge un altro, per questo motivo abbiamo costruito un bollettino molto diverso dai tempi antichi che è pensato per chi non legge anche, non solo per quelli che hanno voglia di ascoltare, per cui diciamo che è costruito secondo una piramide in cui gli elementi immediati sono il grado di pericolo, una carta colorata che evidenzia la zona con il grado di pericolo, eccolo lì, nonché sempre con immagini l'individuazione dei luoghi pericolosi per esposizioni e quote e con l'indicazione del tipo di pericolo che si può riscontrare. Però questa è la parte per chi non vuole leggere, sarebbe bene capire che il vero bollettino è il testo scritto. Questo lo dico anche io per la previsione del tempo. Esattamente, perché è lì che si trova la descrizione del pericolo che va evitato. Il come si legge è il bollettino è uno strumento di prevenzione, quindi ti dà i primi rudimenti per fare una valutazione per evitare il pericolo. Ecco, per esempio, questi spessori li rilevate con stazione automatico oppure con rilievi, con stazioni manuali e ci danno un'idea di com'è adesso la fotografia in questo momento. Il grado di rischio non può essere tanto elevato perché ce n'è poca, anche in alta quota. Non vi è un rapporto diretto tra quantità e pericolo. Poca neve, specie quando è freddo, significa pericolo. Allora, in queste condizioni la quantità è tale, soprattutto il vento che ha provveduto a portare via molta neve ha fatto sì che gli accumuli siano limitati. Quindi, come dicevi prima tu, nella stragrande maggioranza dei casi non si viene sepolti, ma sicuramente travolti e fatti cadere sui sassi, è probabile, anche perché è sufficiente il debole sovraccarico in quei pochi accumuli. Si è trattato di neve molto fredda, no? Molto fredda, con grosso gradiente interno, quindi con strati critici e quindi è possibile staccare quel poco che c'è. In Carnia bisogna proprio andarla a cercare. Sulle giuglie comincia già a essere più diffusa. Qualche canalone. Qualche canalone con un medio accumulo tale da provocare una valanga che può anche seppellire esiste. Questa è la motivazione per cui là è stato messo due. Due, certamente, sì. Voi avete messo, voi emettete il bollettino quotidianamente. No. Ogni due giorni? Tre volte alla settimana. Sì, ogni due. Salvo situazioni straordinarie. Ecco, però questo non vuol dire che voi non siate raggiungibili nel caso si voglia chiedere qualche informazione in più, no? Naturalmente. Ecco, queste sono, quelle che vediamo, sono situazioni di ben alto rinnevamento dell'anno scorso, però tardi. Tardi. Anche in questo caso era un po' più avanti, quindi c'è più neve, ma è arrivata anche in quel caso lì abbastanza tardi. Qualche consiglio per chi si muove? Perché, ecco, abbiamo sentito parlare di ciaspole, non è che si può andare dappertutto con le ciaspole. Allora, in rapporto al tuo mestiere, che cosa possiamo dire su questo? Nella montagna, sulla montagna innevata, non è l'attrezzo che stabilisce il pericolo, perché alla valanga, la valanga non fa differenza. Per chi è a piedi, per chi è con le ciaspe, per chi è con gli sci, non c'è alcuna differenza. Il problema è la prevenzione, appunto. E anzi, in questo senso è bene ricordare che il fattore umano è decisivo. Nell'82% dei casi, degli incidenti, è il comportamento umano che determina l'incidente stesso. E quindi il problema è la capacità di riconoscere il pericolo, la lettura del bollettino e comprendere qual è il tipo di pericolo da riconoscere per evitarlo. E tra l'altro, in quell'occasione lì, io telefonai proprio a voi, c'era Daniele Moro, per dire com'è la situazione bellissima a Casa Rarazzo, Chiansavate c'era un problema, aveva nevicato da poco, zona Chiansavate che è un po' più interna, andando verso, diciamo, il Clapsavone. C'era un problema di un canalone che aveva scaricato. Esattamente. Benché fosse appunto una condizione di neve abbastanza buona. Con grandi quantità di neve, la formazione di strati critici è meno probabile. Meno probabile. Perché vi è meno gradiente la parità di temperatura. Molto bene, noi ci fermiamo, di nuovo per la pausa pubblicitaria, il cronometro dice stop e allora ci ritroviamo tra poco. Con Claudio Salvalaggio prima siamo andati a visitare la montagna, abbiamo sentito parlare di come ci si può attrezzare e come si possono effettuare le escursioni in montagna con la neve. Ma il Friuli Venezia Giulia è un territorio, lo diciamo sempre, piccolo ma estremamente ricco di ambienti diversi. E anche dalle colline in giù, verso il mare, non è che l'inverno non si possa andare a vedere qualcosa di interessante. Allora sentiamolo proprio su questo punto. Di nuovo Claudio Salvalaggio. Altre escursioni che si possono fare, oltre alle ciaspolate o alle passeggiate in montagna, ce ne sono veramente a bizzeffe. Questo perché la nostra regione, come sappiamo, è diversissima, per cui anche chi non vuole andare in montagna può trovare molte cose da fare. Sulla costa è il momento, soprattutto nella laguna, è il momento delle migrazioni, per cui in realtà è questo il momento migliore per vedere i grandi movimenti degli uccelli migratori. Anche perché con il freddo che è arrivato dai palesi dell'est, come ci dice Marco, questo ha spinto proprio le oche anche a venire a riposare sulle nostre coste. Per cui l'isola della Cona, la Val Cavanata, ma anche la laguna di Marano sono ricche adesso della vifauna di passaggio. E si possono vedere in grandi stormi e gruppi che si tengono caldo come possono fra di loro. Sulla costa per cui parliamo della laguna, che è visitabile anche in canoa, che è un mio pallino personale. È uno strumento semplicissimo, magari non in questi giorni di bora, perché è più un problema di freddo, come dicevamo prima, che non di onde, perché in laguna non si sviluppano mai onde molto alte, però con una grafica di questo genere non è semplice governare. Per quanto riguarda i fiumi, per questa stagione diciamo che li lasciamo un momentino da parte, che il rischio di un bagnetto è sempre troppo alto, per cui rimanderemo alla primavera per quanto riguarda la canoa. Però la laguna è molto bella, poi magari con un bicchiere di vin bruleo in un casone è ancora meglio. Per quanto riguarda il birdwatching, allora in questa stagione si sviluppa il maggior numero di individui che visitano la nostra regione, mentre da qui, andando verso Pasqua, magari caleranno i numeri assoluti, ma aumenteranno il numero di specie, per cui diversi uccelli, e non tutti uguali, che visitano le oasi e le nostre riserve naturali. Ma non dimentichiamoci comunque della pianura o della collina. Per chi ama i grandi paesaggi, i cieli aperti, secondo me anche la riserva dei Magredi, il biotopo dei Magredi della Meduna Cellina, è una zona stupenda. Questo perché è vasta, non ci sono alberi o se ci sono sono molto radi, e in questa maniera si riesce a vedere verso l'infinito. In una bella giornata di vento, magari qualche nuvola che passa sopra le nostre teste, è veramente un paesaggio che sembrano le grandi pianure dell'America, diciamo, le grandi pratterie. E non dimentichiamoci anche dei percorsi nella piede montana, in particolare sulle colline moreniche, San Daniele, Fagagna, ma anche Buia o Coloredoli Montalbano, dove si può andare a piedi, ma anche prendendo la bicicletta, muoversi lungo queste dolci colline. Altre escursioni interessanti possono essere, per esempio, sul Carso. In questo momento i cespugli di scotano sono privi della loro vegetazione, per cui questo ci permette una visibilità molto aumentata. E, cosa molto interessante, se andiamo sui sentieri di guerra, possiamo renderci conto delle condizioni in cui vivevano i nostri nonni cento anni fa, che siamo ancora durante il centenario della Prima Guerra Mondiale. Per cui anche la parte storica può essere affrontata in questa stagione e forse ancora di più per capire le sensazioni che dovevano vivere i soldati al fronte. Su toni un po' più allegri, ovviamente, altre escursioni possono essere anche sulla riva dei fiumi. Il tagliamento, anche qui, come per il caso dei Magredi, essendo il suo alveo amplissimo, permette di avere una visibilità molto alta, molto ampia. E anche il colore dell'acqua, soprattutto in questi giorni di grande freddo, è ancora, se fosse possibile, ancora più bello, perché il particolato si deposita sul fondo del fiume e per cui l'acqua è ancora più trasparente e cristallina. I biotopi minori della pianura friulana, per esempio quello delle risorgive dell'Ostella, in questo momento non hanno ancora le fioriture che arriveranno più verso aprile e maggio, però a un occhio esperto e soprattutto silenzioso, permettono di vedere anche un po' di fauna locale, in questo caso qualche capriolo che magari scappa mentre noi ci avviciniamo. E dopo questa carrellata di escursioni, secondo me il motto è quello di non chiudersi in casa, non aver paura del freddo, perché comunque basta adeguarsi ad esso e si possono vivere delle avventure, insomma, piccole però significative e poi insomma non è per sempre, insomma, poi si torna a casa, ci si scalda, magari un buon tè, un buon tè corretto per i più grandi e così si passa questa bellissima stagione in questi posti che sono veramente fantastici. Eccoci qua e torniamo alla fauna, gli animali, di questi tempi ci sono animali che dormono, altri che si mimetizzano, ma c'è sempre Marco Favalli che è in grado di guidarci anche in un'osservazione, anche rispettosa l'osservazione, magari c'è qualcuno che forse può essere maldestro in questo. Allora io ti chiederei di parlare, di vedere un'altra carrellata di immagini che Marco ci ha fornito, molto belle, dove spazieremo orsi, lupi, caprioli, pernici bianchi, insomma c'è di tutto, allora a te la parola. Beh, l'osservazione degli animali d'inverno è particolarmente delicata, no? È il periodo più difficile per loro anche. Intanto è difficile raggiungere gli ambienti, è come si diceva anche pericoloso, quindi bisogna rispettare questo momento di tranquillità della montagna, diciamo, e rispettare gli animali che ci vivono. Non possiamo andare ovviamente fuori pista a disturbare eventualmente degli animali come i cervi che dopo grandi nevicate, sto dicendo. È difficile d'inverno avvicinarsi e dare dei consigli come avvicinarsi. Noi nei parchi, durante le ricerche che facciamo... Dovremo vedere delle immagini adesso, che tra l'altro sono quelle di cui parlavamo. Eccolo qua, guarda, a parte tra l'altro bellissimo nella neve qua in Caprioli. Dicevo che si realizziamo dei censimenti e i censimenti per monitorare soprattutto ungulati e altre specie si fanno da lontano, posizionandosi in delle posizioni sui versanti opposti e con l'utilizzo di canocchiali potenti e binocoli facciamo queste osservazioni faunistiche. Poi ovviamente... Scusa, noi stiamo vedendo questo cervo per esempio, ma ovviamente non è che tu ti sei avvicinato a sei metri dal cervo, no? No, lì ci sono strumenti, soprattutto anche strumenti adeguati, ottiche molto spinte che si utilizzano per filmare questi animali. Appostamenti? Appostamenti parecchi, appostamenti parecchi. Ovviamente la tana dell'orso non è stata filmata in natura, ma in un parco per far vedere questo... Tra l'altro era sveglio. Sono immagini che poi si utilizzano anche per la didattica nelle scuole, per far capire certi comportamenti soprattutto ai ragazzi, no? Ecco, l'orso se ne sta in letargo, ma non sempre, no? Dipende un po' anche lì da... Spesso, come per esempio in questa stagione invernale può capitare che l'orso esca, no? Che non c'è tanta neve, trova ancora cibo per terra, le fagiole, semi, eccetera. E quindi a volte può uscire e farsi qualche breve passeggiata, no? Per ritornare poi alla tana invernale. Ecco, qui cosa vediamo? Qui vediamo l'aquila reale filmata dal corpo forestale nel parco delle prealpi giuglie su uno stambecco che è stato trovato morto a causa sempre del problema rogna sarcoptica di cui parlavamo prima. Certo, quindi diciamo che i carnivori forse hanno un modo di trovare carnivori... Ovviamente, sì, questa moria di animali stambecchi e camosci ha favorito ovviamente altre specie, ovviamente anche l'aquila reale che è parzialmente necrofila soprattutto durante il periodo invernale, ma tutti gli altri carnivori, no? Ecco, io... Dalle volpi alle martore ai rapaci notturni anche. Sì, e tra le immagini spero che si possano vedere ancora quelle per esempio della pernice bianca che si in qualche modo mimetizza sulla neve, che forse come anche altri animali che cambiano l'ivrea o colore, poteva trovarsi in maggiore difficoltà con il tempo di pre-neve, eccola qua. È ovvio che vedete come un animale come la pernice bianca, che d'inverno è bianca per mimetizzarsi nella neve, e in quest'inverno, con le scarse nevicate che abbiamo avuto, è facile preda di rapaci, no? Soprattutto, ma anche... soprattutto dell'aquila reale, no? Quindi non riesce a nascondersi e effettivamente sono riuscito a riprendere questa pernice in una piccola caverna, no? Che si era nascosta. Questo è un caso fortuito. Ecco, chi c'è? Anche la lepre variabile. Anche la lepre variabile soffre tantissimo con inverni di questo genere qua, no? Ovviamente sono animali che soffrono già per i cambiamenti climatici, ma è riscaldamento, è cambiamento anche vegetazionale, no? Stagionale. Quindi questi problemi in più legati al scarso nevamento creano veramente dei grossi problemi. Ecco, siccome siamo in chiusura, Marco, un appuntamento da ricordare a Tramonti? Un appuntamento da ricordare per parlare del problema della rogna sarkopica, a Tramonti di Sopra, venerdì 27 gennaio alle ore 20. Ecco, mercoledì 27 gennaio alle ore 20. A Tramonti di Sopra. Ecco, Tramonti di Sopra, Marco Favalli. Con questo non mi rimane che ringraziare i nostri ospiti, Marco Favalli e Luciano Lizzaro. Grazie per i vostri contributi. Noi col Meteo ci vediamo ore 7 lunedì. Buon weekend a tutti e con Meteo Weekend appuntamento a venerdì prossimo, naturalmente. Arrivederci.